I vigili del fuoco di Avellino nelle ultime 24 ore sono stati impegnati in più di 60 incendi riguardanti boschi, sterpagli e macchia mediterranea. Soprattutto durante la giornata di ieri sono stati effettuati circa una cinquantina di incendi, soprattutto a bruciare. È stata l'Alta Irpina, le zone maggiormente colpite sono state Calabritto, incontrate a Castruzzo, dove hanno operato per intera giornata quattro squadre e mezzi aerei per domare il vasto incendio che è arrivato a minacciare alcune abitazioni. Le altre aree colpite sono state quelle di Cervinara, Montemilletto, San Manco sul Calore, Caposele, Consa della Campania, Lioni, Rocca San Felice, Montemarano, Sul Monte, Rocca Bascerana. Ancora ieri la squadra del distaccamento di Pisaccia è intervenuta sull'autostrada 16, Napoli Canosa, nel territorio del comune di Lacedonia, dove si è sviluppato un incendio di sterpagli a bordo strada. Vista la situazione molto critica, nel pomeriggio di ieri il comandante, l'ingegnere Mario Bellizzi, e il funzionario di guardia tramite la direzione regionale Campania hanno chiesto aiuto fuori regione e in queste ore sta arrivando una sessione operativa dalla Toscana con due squadre da Arezzo e Firenze per dar manforte al personale del comando di Avellino, il quale sta lavorando da giorni senza sosta e con turni raddoppiati per far fronte all'emergenza incendi che attanaglie l'Irpinia. Sempre ieri pomeriggio le squadre del distaccamento dei vigili del fuoco di Grotta Minarda e D'Ariano Irpino sono intervenuti in località Camporeale a D'Ariano Irpino per un incendio che si è sviluppato all'interno di un'autodemolizione del posto solo dopo alcune ore di lavoro. La situazione è tornata sotto controllo. La situazione è tornata sotto controllo.